Da oggi iniziano i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, santo patrono della città di Caltanissetta, con l'intronizzazione del simulacro e l'inizio dell'ottavario. Nei giorni a seguire in cattedrale ci sarà il pellegrinaggio da parte di alcune parrocche e associazioni della città. Giovedì partiranno le parrocchie di San Pio X e San Luca, venerdì Santa Flavia, sabato Casa Famiglia Rosetta, domenica Sant'Agata e rinnovamento dello spirito. Per concludersi lunedì con le parrocchie di Santa Croce, San Giuseppe, San Marco e Santa Barbara. Da martedì 27 settembre alle 7.30 del mattino, per tre mattine sino al 29, verranno sparati i consueti 21 colpi di cannone. E nel pomeriggio del martedì la solenne messa pontificale del XIX anniversario dell'ordinazione episcopale del Vescovo Monsignor Mario Russotto. Mercoledì 28 settembre l'ultimo pellegrinaggio delle parrocchie di Santa Croce, San Giuseppe, Santa Lucia, San Domenico e Sacro Cuore. Il 29 settembre, dopo i colpi di cannone, alle ore 8, 9 e 12 ci saranno le sante messe in cattedrale, con quella delle ore 10.30 presediuta dal Vescovo alla presenza delle autorità civili e militari e della Polizia di Stato. Nel pomeriggio, alle ore 18.30, Santa Messa celebrata dal Vicario Generale Monsignor Onofrio Castelli e a seguire la processione del simulacro e a finire i fuochi d'artificio dal cortile della Chiesa dell'Abbadia, omaggio della città al Santo Patrono.